Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania. Oggi voglio condividere con tutti voi la ricetta ed il procedimento per realizzare il latte condensato homemade senza lattosio. Gli ingredienti sono 150 g di latte del lattosato, 200 g di zucchero a pelo, 50 g di burro del lattosato, 3 g di estratto di vaniglia. Realizzare il latte condensato in casa non è una cosa semplicissima, ma io ho trovato una ricetta online che ho adattato alle mie esigenze di intollerante al lattosio. In un pentolino perso il latte, aggiungo il burro e l'estrato di vaniglia e lascio scegliere a fuoco basso. Aggiungo lo zucchero a velo pian piano e mescolo bene per circa 10 minuti, a fuoco medio, fino a che non sfiora il bollore. Aggiungo lo zucchero a velo pian piano e mescolo bene per circa 10 minuti, continuo a mescolare per un po' e dopo riverso il mio composto all'interno di un boccaccio di vetro e lascio raffreddare, poi lo conserverò in frigo. Con queste dosi si ottengono circa 360-370 g di prodotto finito. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su, vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!